Un pareggio che alla fine è risultato lo specchio fedele di quanto le due squadre hanno fatto in campo. Un primo tempo brutto in tutti i sensi, con zero emozioni e tanta noia e una ripresa appena appena un tantino più vivace. Paterno e Angolana portano a casa un punticino a testa e guardano al prossimo impegno, mentre noi proviamo a raccontarvi questa partita che inizia con i soliti 5 minuti di ritardo ingiustificato e che si dipana con fraseggi laterali che non trovano mai sbocchi in avanti. Di Virgilio e Mercogliano sono ben marcati dai rispettivi avversari, mentre dalla parte opposta Bizzarri e Ruggeri devono fare i conti con Di Fabio e Tabacco che si dimostrano altrettanto implacabili. E così fino al 35esimo non accade assolutamente nulla, neppure uno straccio di tiro in porta né da una parte né dall'altra e la noia prende letteralmente il sopravvento. Poi al 36esimo c'è un contropiede ospite con Ruggeri che controlla e offre un buon pallone a Bizzarri che in area e da ottima posizione spedisce a fondo campo. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa accade che dopo soli tre minuti l'angolana resta in inferiorità numerica al termine dell'azione che vede un lancio lungo per Di Virgilio che scatta in profondità e viene atterrato da Dalonzo che rimedia il rosso diretto perché ultimo difensore in una chiara occasione da rete. Così almeno giudica il direttore di gara. In influente il relativo calcio di punizione almeno nella parte iniziale ma sugli sviluppi c'è un rimpallo favorevole al paterno che per poco non va in gol e ci vuole tutta la bravura di Abbate per evitare la segnatura. Al nono sulla solita rimessa lunga con le mani di Mauti Di Virgilio viene preceduto di un soffio in angolo da un difensore giallo-blu. Torti allora manda in campo anche Moro che però tocca il suo primo pallone dopo sette minuti abbondanti. Alla mezz'ora c'è un cross di Iaboni per Cordischi il cui colpo di testa è troppo fiacco per impensierire Abbate. Passiamo al trentaseiesimo Sassarini destro diagonale da fuori area e nuova parata sicura da parte dell'estremo ospite. Quarantesimo botta secca da 40 metri da parte di Di Fabio e gran volo di Abbate che arriva sotto l'incrocio per disinnescare la bomba del difensore nerazzurro. E infine in pieno recupero sugli sviluppi di un fallo laterale battuto da Mauti Paolo Cancelli sfiora il palo con questo rasoterra dal limite. Paterno Angolana è tutta qui. Non molto a dire il vero ma da due squadre che non possono mantare attaccanti di grido forse di più non sarebbe stato lecito attendersi.